ragazzi trail e che non facciamo da molto tempo perché era sporco adesso l'hanno pulito e quindi lo riproveremo speriamo che questo trail sia pulito a dovere anche perché sto uscendo adesso da una settimana e mezza di stop per un infortunio al ginocchio attenzione oddio oddio non è che stia tanto pulita guarda prima tu stai a vedere che rami ci stanno qua ok allora ne aspettavo più pulita però stiamo andando lenti perché guardate ragazzi come ci passo qua come ci posso mi sta accadendo un mi sta accadendo una pianta mi sta accadendo una pianta addosso voglio una promozione in trail builder mi ha caduto il ramo sulla bici lanciati pure tu dentro non mi denunciate per favore vabbè non è che non stiamo facendo niente di male stiamo pulendo un po la strada perché era pericoloso puliamo un po questa strada che qui ci passa molta gente potrebbe essere pericoloso perfetto ok credo che non sia il caso di andare veloci oggi c'è già un altro problemino qui ho preso un ramo in faccia ok qui penso che posso andare un po più veloci qui posso andare un po' Ok, questa è una sporca, solo da qui non fa Io però si tirano in faccia Meno male che Antonio è stato integrale Ok, dai Dai, qui sembra più pulito Ok, qui sembra più pulito Ok, qui sembra più pulito Ok, qui sembra più pulito Qua è anche pericoloso a sinistra Ok, il trail è finito qui Guardate che panorama Al tramonto qui è bellissimo Dove stai andando? Non perdere la via, no Hai fatto una caduta da noob Ma quel piede, come l'hai messo là? Io vorrei capire Volevo provarlo con le tecniche da trial Però non è andata bene stavolta Ma poi perché ci sono dei cartoni di pizza a terra? Pizza sul trail Un frisbee Ma chi si viene a mangiare le pizze qua sopra Per poi lasciare i cartoni e tutto quanto Che schifo Ci sono i cestini a 100 metri qua sotto Tutto Ah Ah Boom Boom Piano piano Trafficata da strada oggi Ah E ci vediamo al prossimo video